Francesco Grassi, riconfermato la guida del comune di Mappano, come è stata questa avventura? Beh, sono stati cinque anni estremamente impegnativi perché dopo aver raggiunto l'autonomia, dopo tante battaglie, ci siamo trovati a costruire il comune da zero, però devo dire che con una grandissima squadra e la partecipazione di tanti cittadini il risultato di oggi premia una comunità, quindi io sono contento di avere tutta questa fiducia da parte dei miei concittadini e lavoreremo, ci impegneremo al massimo per non deluderli e per realizzare tutti i sogni che i mappanesi hanno. Un giudizio sulla campagna elettorale che si è appena conclusa? Beh, io penso che sia stata una campagna elettorale in cui si è raccontato, da parte nostra in particolare, gli anni di lavoro fatti. Ci si è confrontati in modo abbastanza leale, non ci sono stati toni particolarmente accesi e devo dire che adesso si apre un percorso di potenziale collaborazione con la giusta opposizione della minoranza che solleciti la maggioranza in quanto deve fare, però c'è un senso di comunità, Mappano ha questa caratteristica, è una comunità che si sente comunque unita e l'obiettivo che abbiamo tutti insieme è quello di rendere più accogliente e bello il nostro paese. I primi passi del nuovo, si fa per dire, sindaco, quali saranno? Beh, diciamo che siamo un po' in corsa, abbiamo tanti progetti avviati, come avevamo detto durante la campagna elettorale abbiamo la videosorveglianza che sta piano piano prendendo forma, sono state già installate le prime telecamere e entro quest'autunno sarà completato il sistema collegato sia con la nostra Polizia Municipale sia con l'Arma dei Carabinieri per dare il massimo di sicurezza possibile. Poi abbiamo diversi cantieri aperti, l'assegnazione della nuova farmacia comunale, abbiamo da portare a termine i progetti esecutivi per Strada Cornia e Via Rivarolo, quindi il famoso grande progetto sullo stradone e la riqualificazione, abbiamo il Parco Unione Europea che anche questo è in fase di partenza e diciamo che Mappano è pieno di progetti, faccio fatica a elencarli tutti, abbiamo i due blocchi da 500.000 euro qui proprio nella zona nord e sud rispetto alla scuola elementare con una riqualificazione importante, la piazza dei bambini e delle bambine da una parte e dall'altra parte la bonifica del vecchio osilo nido con una risistemazione di tutto il lato. Potrei continuare però, diciamo che lavoriamo per la comunità e siamo felici di aver avuto la fiducia per poter continuare in questo lavoro.